Sfida che si preannuncia stellare nella finale della categoria Piccoli Amici con il Messina Soccer Sculla a scontrarsi con l'F24 Messina. Calcio d'inizio affidato al Messina Soccer con Spadaro che prova direttamente la battuta a rete trovando pronto De Salvo. Nel primo tempo la gara è tirata con la bilancia a pendere lievemente verso il Messina Soccer che al quinto sfiora la rete, prima con Randisi che batte il portiere ma trova un difensore sulla linea, poi con un tiro di Alessi che viene però neutralizzato. Lo stesso Alessi ci riprova all'ottavo ma la palla è sul fondo. L'F24 attende e prova a colpire al decimo con una punizione di Catalfamo che però si infrange sul palo. Nel secondo tempo la gara si anima, il Messina Soccer sfiora la rete già al primo minuto ma la retroguardia avversaria riesce a chiudere lo specchio della porta. La risposta è ancora nei piedi di Catalfamo ma il suo tiro al volo è parato da Costantino. Al quinto Randisi ha la palla del vantaggio ma sotto porta non riesce a insaccare. L'attaccante si rifà due minuti dopo andando in gol con un potente diagonale dopo un'azione personale in contropiede. L'ennesima punizione dello specialista Catalfamo che sfiora il pareggio, ancora Randisi trova il raddoppio e sigla la doppietta personale con un'azione fotocopia della prima rete. Un minuto dopo Spadaro chiude i conti scavalcando il portiere con un tocco morbido. Allo scadere c'è tempo per il palo di Randisi che sfiora addirittura la tripletta. Termina 3 a 0. Il Messina Soccer School è campione tra i piccoli amici. Come ti chiami? Marco. Marco prima hai tirato una bella punizione e hai preso il palo. Hai un giocatore preferito a cui ti ispiri? Cioè le tiri come Cristiano Ronaldo tipo? Sì. Cristiano Ronaldo o Messi? Ronaldo. Sicuro 100%. Sei contento di aver partecipato? Vi siete divertiti? Sì. A chi dedichi le tue punizioni? A papà. A papà? Allora salutiamo papà. Ciao. Allora come vi chiamate? Matteo. Alessio. Allora Alessio e Matteo hanno segnato i gol di questa finale. Doppietta per Alessio. E un gol finale per te. Siete tutti e due attaccanti no? Sì. Chi è il vostro attaccante preferito? Cristiano Ronaldo? Sì. Io nel Messi. Messi. E chi è più forte tra Messi e Ronaldo? Ronaldo. E come si fa a decidere? A chi lo dedichiamo il gol di oggi? Beh, a tutti quelli che sono venuti. A tutti quelli che hanno visto la partita? Sì. A mamma, a papà? A papà. Allora ci siamo divertiti, salutiamo tutti i compagni. Ciao. 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 Grazie a tutti.